buongiorno a tutti quelli del canale siamo tornati con questo mini video possiamo dire così video brevissimo per solo darvi una notizia per chi non l'avesse visto abbiamo fatto un video su una carta chiamata hype è una carta di credito totalmente gratuita attivazione gratuita in più con questa promozione che era fino a giugno ci sono 10 euro maggio ricaricando almeno un euro dopo l'attivazione questa promozione è stata prolungata fino a settembre a fine settembre fino al 30 settembre quindi avete l'opportunità di avere questi 10 euro omaggio ricaricando sempre un euro e attivando gratis quindi tutto quello che abbiamo detto nel video precedente che chi non se lo fosse visto se lo può andare a vedere sul nostro canale è un video dove abbia spiegato tutti i vari passaggi molto dettagliatamente per attivare la carta ricevere i 10 euro maggio questa promozione che appunto nel video diciamo che finisce a fine giugno verrà prolungata fino a fine settembre questa promozione quindi per spiegazioni c'è il video precedente qualsiasi cosa ci sono i commenti ci sono le pagine instagram che vi abbiamo messo i link sempre in quel video famoso della carta e niente questa è l'unica novità perché il resto resta tutto uguale quindi promozione che durerà fino a fine settembre volevamo solo comunicarvi questa notizia attivatela in più possibile e ci vediamo al prossimo bella